Intanto non è solo un'esperienza ma è una vita, quindi precisiamo le cose. L'esperienza è un fatto anche importante, intenso, però ha un carattere anche di transizione, di transitorietà. Per noi è stata una scelta che ci ha accompagnato da quando abbiamo fatto questa opzione, per cui da quando avevamo 30 anni, 35 anni fino ad ora, la nostra scelta è stata quella. Ed è una scelta senza pentimento, non è che da questo punto di vista ci siamo sentiti in qualche modo in difficoltà nel senso di un pentimento, potevo prendere un'altra strada, no, dall'interno che abbiamo vissuto nei vari ambienti di lavoro, diciamo che la scelta l'abbiamo ritenuta e la riteniamo tuttora pienamente valida. Quando poi assistiamo a fenomeni tipo quello di Torino, per cui sette operaie sono morti in quelle condizioni lì, questo ci ha riconfermato che andare in quegli ambienti, in un modo, in un altro, eccetera, è stata un'opzione fondamentale e giusta. Quindi purtroppo anche la condizione operaia, attualmente invisibile, però reale, realisticamente ancora presente su milioni di persone, ci conferma che l'essere con loro e come loro è stata una scelta buona e su questo punto non ci piove. Sotto il profilo del Ministero per noi è stata la scelta di un Ministero gratuito, cioè un Ministero che non si fa pagare, che non fruisce dell'otto per mille, che quindi attraverso il lavoro, prima la pensione e poi, trova un suo autofinanziamento senza dover necessariamente passare attraverso forme di monetizzazione. E questo per noi rappresenta non soltanto un fatto contingente che è accaduto da alcuni preti, ma rappresenta un qualcosa di importante per tutta la Chiesa, perché il messaggio cristiano è per essenza gratuità e in qualche modo i messaggeri dovrebbero rappresentare, con tutti i limiti della vita, d'accordo, ma rappresentare questa dimensione di assoluta gratuità. Quindi anche sul fronte del Ministero ci troviamo in coerenza, ma non una coerenza folle di chi prende una strada come un toro e va fino in fondo, ma è una coerenza motivata anche attraverso l'esperienza quotidiana nel lavoro e fuori dal lavoro. Oggi ce ne sono molti di meno, diciamo, siete diventati molto pochi. Come mai? È un peccato? Ma guardi, qui ci serve da affrontare la tematica del prete, cioè oggi chi diventa prete sono molto pochi. Quindi noi siamo partiti da un gruppo che era già diventato prete e quindi la popolazione da cui questo viene prelevato si è ridotta e quindi diventa più difficile una cosa del genere. È cambiato moltissimo anche il mondo del lavoro, per cui vi sono magari certi preti, anche qualche informazione che ci arriva talvolta, che lavorano per conto suo, ma mentre ai nostri tempi c'era anche un'organizzazione, un essere dentro la classe operaia, nelle sue strutture, nel sindacato, eccetera, oggi il carattere è molto più frammentario, molto più individuale, cioè molto meno, cioè è proprio anche l'evoluzione sociale ed economica che ha gettato in queste condizioni di solitudine, se vogliamo. Per cui c'è stato qualche, in questi ultimi 10-12 anni, in due giovani, uno è aderito a questa forma di vita, un altro ha chiesto, prima di essere ordinato, di andare a lavorare e in diocesi di Milano ha detto, ma questo ministero da noi non è previsto. E allora lui ha incontrato un vescovo che a queste condizioni comunque l'ha ordinato e lui attualmente lavora in una cooperativa nel Bielese, durante la mattina fa l'operatore ecologico, i rifiuti e compagnia. Al pomeriggio fa il lavoro da prete in un oratorio, comunque in una parrocchia, però chiaramente sono individualità, ecco. E la rivista? La rivista può servire? Perché la rivista? Ma la rivista è nata perché ad un certo punto si pensava di avere delle cose da dire, in precedenza c'era un bollettino che raccoglieva le nostre riflessioni, contributi, convegne e compagnia e vent'anni fa proprio Don Sirio Politi, uno dei primi per chi operai in Italia di Viareggio ha lanciato questa ipotesi e noi l'abbiamo raccolta, soprattutto qui in Lombardia è stata raccolta e quindi da vent'anni c'è questa rivista che esce con due o tre quaderni, insomma in totale sarà 300-350 pagine in un anno. E quindi racconta un po' le nostre storie, le nostre riflessioni, dà spazio a quello che sui giornali realmente troviamo, spazio alla soggettività anche di chi lavora, insomma no? Abbiamo messo su anche le nostre viti, i nostri racconti, i nostri incontri, dibattiamo anche tematiche sulla giustizia che oggi è una parola che nessuno usa più se non per indicare il Ministro Mastella o cose del genere, no? Quindi la Chiesa dei poveri che è stata una cosa importante al tempo del Concilio che ora è sparito totalmente dalla circolazione anche come parola, cioè riprendiamo alcune parole fondamentali che per noi non sono frutto di una stagione ma rappresentano una cosa di permanente per i credenti e non solo per i credenti e le riprendiamo, le rivitalizziamo per quanto è possibile, insomma.